Il 17 febbraio 2014 siamo davanti, è sera, siamo davanti all'ambasciata russa, c'è Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che noi da mesi ormai rendiamo pubblico, ossia che le persone lesbie, gay e trans non hanno alcun diritto in Russia e vengono totalmente discriminate, vengono picchiate e vessate. In questi giorni Vladimir Luxuria per ricordare quello che le vittime lesbiche e gay stanno subendo ha deciso di fare delle azioni eclatanti, che poi in realtà eclatanti non sono, ha semplicemente mostrato una bandiera con scritto in russo, essere gay è ok. E questo purtroppo va contro le leggi russe e quindi è stata arrestata, in questo modo ha voluto dimostrare quanto un cittadino straniero con un'espressione che in Italia e nei paesi civili sarebbe banale, lì rischia il carcere se non anche altro. Ovviamente lei essendo una cittadina italiana ed ex deputata è stata poi ieri subito rilasciata, oggi è stata comunque di nuovo arrestata perché ha di nuovo esposto la bandiera e lei con queste azioni vuole dimostrare appunto il fatto che comunque come un ex deputato italiano e con tutta la visibilità che ha viene trattato in questo modo, figuriamoci un semplice cittadino o una cittadina russa come vengono trattati quando anche non c'è la visibilità dei media. Grazie Fabrizio Marazzi. A questo flash mob incontriamo la signora? Maria Laura Annibali. Come mai qui? Perché sono un direttivo del DG Project e sono la garanta di consulta per fare opportunità della regione Lazio. In questo caso ovviamente è suscitata da Vladimir ma in realtà è per condannare in maniera tutta volta efficace, effettiva e fisica quello che sta succedendo in Russia contro la comunità omosessuale. Un commento al fatto che Letta, l'ex Presidente del Consiglio, è stato uno dei pochi Presidenti del Consiglio, capi di governo, insomma occidentali, che è andato all'apertura delle Olimpiadi. Che vuole che commento posso fare? Ragioni di Stato, soldi credo, problemi di gas eccetera eccetera, quindi soltanto motivi di carattere economico politico. Che dire, in un'Italia che si trova in queste condizioni economiche, sono guardi, sono molto combattuta perché chiaramente io nei suoi panni non sarei andata, ma io sono Maria Laura Annibali e non sono Letta. Questo è il minimo commento che posso fare, io non sarei andata. Grazie a Maria Laura. Matteo Enzo Cucco, Presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Sì, è importante essere qui oggi perché è importante che si comprenda che il senso della manifestazione di Vladimir Luxuria è generale. E' una manifestazione che si è posta all'obiettivo di mettere in evidenza la gravità della legge approvata nella Federazione Russa contro le persone omosessuali, ma contro tutte le persone, perché quella è un'aperta violazione dei diritti umani. E secondo me è una cosa molto importante perché l'andamento della comunicazione e della comunicazione di massa negli ultimi tempi aveva fatto sì che tutte le questioni che avevano a che fare con i gay finissero un po' nella cronaca rosa. Un po' queste battute odiose che Putin faceva, non abbiamo niente contro i gay e poi abbracciava questo e poi la musica di Freddie Mercury. Cioè è stato tutto un concentrarsi di iniziative di superficie per nascondere la sostanza. La sostanza invece è quella che è. Noi siamo molto preoccupati, devo dire, per il dopo di giochi olimpici, perché dopo che gli infrettori della pubblica opinione, della grande comunicazione di massa, chiuderanno i battenti, le luci sulla situazione che c'è nella Federazione Russa, è molto importante essere vigili perché in quel momento scatteranno misure ancora più dure, ancora più negative e non avranno paura delle rimostranze delle organizzazioni internazionali. L'hanno già dimostrato in questo periodo, dove in Russia, nella Federazione Russa, proprio in questo periodo, hanno introdotto delle norme che vietano l'adozione da parte di coppie gay, dei bambini. Quindi, cosa che viola tutta una serie di trattati internazionali, ma insomma questa è un'altra questione. Quindi è una manifestazione importante, è importante che dall'Italia ci si faccia sentire vicino a Luxuria. Secondo me sarebbe importante che questa cosa finisse conosciuta anche all'estero. Una domanda che ho fatto anche a Marco, tu sei presidente di un'associazione radicale, costituente il Partito Radicale Transnazionale, e allora volevo chiederti ufficialmente se ci sono anche i radicali allora. Sì, certo, ci sono anche i radicali. No, questo sì, e devo dire che la funzione di Emma in tutta questa vicenda è stata molto importante, perché Emma ha risposto immediatamente, non appena gli abbiamo dato la notizia. Non soltanto è stata Emma Battaglia, ma anche noi direttamente, i certi diritti, ci siamo messi in contatto con la Farnesina e con Emma, e lei è scattata immediatamente, e ha lavorato fino a notte inoltrata per costruire la situazione che poi ha mosso il console e ha messo allerta la diplomazia. Certo, il ministro secondo me non ha una bacchetta magica e non è che possiamo dichiarare guerra alla Russia per questa cosa. Ecco perché noi, come certi diritti, oggi abbiamo fatto non un appello, ma una richiesta a Vladimir dicendo torna a casa, non fare ulteriori manifestazioni perché oggettivamente il rischio è molto alto, ed il rischio che si crei una situazione non più sotto controllo è oggettivamente reale. Allora l'obiettivo è annunciato, l'obiettivo è raggiunto, l'informazione è stata rotta, tu hai fatto la manifestazione, torna in Italia perché da qui la lotta può continuare. Grazie Enzo Cucco. Grazie a voi. A questo flash mob incontriamo Marco Marchese e non siamo proprio esattamente davanti l'ambasciata, come mai Marco? Siamo qui, capitato per caso a Roma e quindi ho colto l'occasione per venire a manifestare contro questo fermo di Vladimir Ruxuria, visto che i russi, i soci non si possono nemmeno sventolare le bandiere per queste leggi assurde, non solo antidemocratiche, ma che creano violenza. Pare che però neanche qui si possa perlomeno portare una bandiera davanti a un'ambasciata. Beh sì certo, siamo a pochi metri dall'ambasciata, però c'è uno schieramento di forze, c'è più polizia che persone, come al solito, quindi hanno paura, non si sa di che cosa, perché qua siamo tutti armati di non violenza, a differenza delle autorità russe che invece permettono nel loro paese che gay, lesbiche, bisessuali, transgender, possono essere alla merce delle persone diciamo omofobe, io dico razzisti a sfondo omofobo e che quindi possono pestare, menare, reprimere come gli pare piace a queste persone. Marco l'ultima domanda, ho visto parecchie bandiere, addirittura ci sta il partito animalista europeo, quindi varie associazioni, secondo te manca qualcuno? Sì, secondo me mancano i radicali. Molto chiaro, grazie Marco. Contriamo l'onorevole Iliana Piazzoni di SEL, qui presente, come sta andando questa trattativa per poter ottenere questa autorizzazione a spostarsi? Non benissimo, nel senso che in questo momento non c'è la disponibilità a far avvicinare all'ambasciata, che è quello che chiedono invece i manifestanti, c'è l'autorizzazione per un corteo, quindi adesso stiamo vedendo se è possibile arrivare a questa conclusione, il problema è che chiaramente essendoci in questo momento un vuoto di governo è un pochino più complicato, però i ministri e i sottosegretari sono in carica per gli affari correnti, quindi adesso cerchiamo di capire. Senta, è stato portato via qualcuno, visto o sbaglio? Io non lo so, me lo sento che lo stanno dicendo adesso, però adesso verifichiamo, sarebbe veramente grave, io capisco tutto, ma che in questo paese non si possa nemmeno manifestare in maniera pacifica comincia a essere un tantinello preoccupante, perché siamo qui per protestare contro Putin, invece di portare la democrazia da Putin ci importiamo la non democrazia dalla Russia. Grazie molte.